Armando Puccio ha il sorriso nel cuore, è il Peter Pan della risata romana. Ma davvero dici queste cose? Sì, sì. Chi è stato il tuo maestro? Eh, da grande, ma io voglio un sacco di cose, non so che cose. Quindi ci vediamo al teatro con Armando Puccio? Ci vediamo al teatro il 27 novembre. Puntuali? Sì. Prenotate? Sì. Fino al 3 dicembre, sì, con improvvisamente. E noi veniamo. Tanto poi lo so come fate. All'ultimo venite tutti a fronte, insomma, e ne vi che ne posso fare pure de notte. All'ultimo venite. All'ultimo venite. Grazie a tutti